La quinta commissione salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro ha approvato a maggioranza con il parere contrario delle opposizioni il progetto di legge di riengegnerizzazione della governance sanitaria, ovvero la discussa rete ospedaliera. Si tratta della bozza che ha avuto l'ok dal tavolo di monitoraggio e poi dall'Aggiunta Marsilio, ma il provvedimento verrà discusso e votato anche nella seduta di Consiglio regionale in programma per il prossimo 12 dicembre. La commissione, durante la maratona durata dal mattino alla sera, ha ascoltato i sindacati dei lavoratori del comparto sanità sulla reinternalizzazione del personale os dell'ASL1. La risoluzione approvata a maggioranza impegna il Presidente della Giunta e l'assessore competente Veri ad attivarsi per l'assunzione degli operatori sociosanitari dell'azienda sanitaria Aquilana. Più complicata invece la situazione per l'ASL Teramana, come lamenta il consigliere regionale del PD Dino Pepe. Il Presidente è davvero imbarazzante. Tante volte ha cercato di soffocare la discussione e quindi tanti emendamenti sono saltati. Quando abbiamo discusso gli emendamenti sull'ospedale di Teramo, sull'ospedale di Sant'Omero, su quello di Atri, e lì i consiglieri di centrodestra di Teramo spesso sono usciti dall'aura, credo per il loro imbarazzo, per non sostenere le battaglie per la sanità teramana, per evitare il confronto con gli esponenti di centrosinistra. E poi, dopo alcune ore di discussione e tutti gli emendamenti sono stati respinti da questa maggioranza, che ha pensato solo ad alcuni territori rispetto e a danno degli altri, il Presidente ha chiuso la discussione e alla fine si è votato il testo con una bagarre, una confusione, un caos completo all'interno della Commissione competente. Ma noi questa discussione la riporteremo in aula nel prossimo Consiglio regionale, dove riporteremo tutti gli emendamenti per tutelare i servizi sul territorio e la sanità del Teramo e della provincia in maniera particolare. Come ci hanno detto tutti i portatori di interesse, i sindacati, i rappresentanti di categoria, i rappresentanti dei medici, degli infermieri, delle OS che hanno tutti descritto una sanità teramana declassata e offesa da questa nuova rete ospedaliera.